Lo studio Latitude è un trial molto importante sul tumore alla prostata che ha dimostrato che l'utilizzo precoce di un farmaco ormonale a biraterone in aggiunta alla terapia di deprivazione androgenica allunga la vita dei pazienti già con metastasi alla diagnosi. Al congresso dell'ASCO a Chicago sono stati presentati nuovi risultati di questo studio con un follow a 4 anni. Ce li siamo fatti raccontare e ci siamo fatti dire quali sono le novità più importanti dal dottor Giuseppe Procopio dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Sentiamo che cosa ha detto al nostro collega. Ci può parlare dello studio che verrà presentato qui a l'ASCO 2018? Latitude sicuramente è stato uno degli studi più importanti sulla patologia prostatica perché ha dimostrato in maniera chiara e inequivocabile che un utilizzo precoce di un ormone di nuova generazione quale è la biraterone fosse in grado di migliorare l'aspettativa di vita del paziente oncologico. Parliamo di un setting specifico di pazienti, quelli che hanno malattia metastatica, la diagnosi, malattia con dei fattori prognostici sfavorevoli. In questa popolazione l'utilizzo precoce di biraterone ha dimostrato un impatto non solo statisticamente significativo ma soprattutto clinicamente rilevante sulla sopravvivenza, sulla qualità di vita e su tutti gli end point di efficacia. Si parla di cronicizzazione della malattia. È così o servono ancora molti altri studi? È sicuramente un primo grande passo che va in questa direzione. È un passo tanto più rilevante se pensiamo che ci rivolgiamo a pazienti con fattori prognostici sfavorevoli. Quindi se per questa popolazione possiamo pensare grazie ad un farmaco come la biraterone di ottenere un controllo della malattia di almeno tre anni, non è cronicizzazione ma credo che si va decisamente nella direzione di un lungo controllo temporale della malattia. I risultati clinici credo che oggi ci consentano di affermare in maniera chiara che questo studio cambia la patica clinica perché la biraterone diventa gente di riferimento in questa specifica popolazione. Pazienti con fattori prognostici sfavorevoli, malattia metastatica alla diagnosi, quindi quella malattia cosiddetta più brutta. Ecco in questo setting l'utilizzo di a biraterone rappresenta sicuramente un passo molto importante in avanti.